Vi sarà capitato di sentire che in Venezuela sta succedendo qualcosa. E come spesso accade in questi casi, siamo inondati di informazioni dei mass media che fanno i propri interessi. Ci raccontano sempre la stessa storia, diffondendo notizie per spaventarci e non per informarci. E subito vengono fuori le grandi parole. Repressione, dittatura, censura. Ma essendo ormai abituati a capire quali siano gli interessi delle oligarchie, dei banchieri e molte volte dell'impero nordamericano dietro queste notizie, proviamo a fare una lettura più approfondita dei fatti e a capire cosa sta accadendo veramente in Venezuela. È molto importante avere una visione geopolitica. La prima cosa da sapere è che il Venezuela possiede le più grandi riserve petrolifere conosciute al mondo. Ma capiremo meglio cosa sta accadendo in Venezuela se diamo uno sguardo al suo vicino del nord, gli Stati Uniti. La società statunitense è tra i principali consumatori di derivati del petrolio al mondo, in primo luogo per la benzina. Gli Stati Uniti possiedono il più alto tasso di automobili per abitante del pianeta. E ovviamente ci sono altri derivati come la plastica, i vestiti, i cosmetici. Per mantenere questa società dipendente dal petrolio, gli Stati Uniti devono importare 60 barili ogni 100 che ne consumano. Cerchiamo di dare uno sguardo un po' più ampio. Da dove viene il petrolio che si consuma negli Stati Uniti? Da questo punto di vista il Medio Oriente è una zona chiave. Gli Stati Uniti importano una parte importante del loro petrolio da Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. E con questi alleati hanno dato vita ad una strategia per ottenere l'egemonia politica della zona. Sono proprio questi interessi nel settore energetico, tanto nel gas come nel petrolio, che spiegano la guerra in Iraq, l'attuale violenza in Siria, l'occupazione in Palestina e l'intervento in Libia. Bene, se questo concetto è chiaro, un semplice calcolo ci permetterà di capire perché il Venezuela è così importante per gli Stati Uniti. Il petrolio che viene dal Medio Oriente passa dallo stretto di Ormuz e prosegue il suo percorso nel sud dell'Africa fino ad arrivare in Texas. Questo viaggio dura tra i 40 e i 45 giorni. Al contrario, il petrolio che viene dal Venezuela impiega solo 4 o 5 giorni per arrivare negli Stati Uniti. Paragonando i costi di trasporto del petrolio che arriva dal Medio Oriente anziché dal Venezuela, si capisce chiaramente quali siano gli interessi nordamericani. A questo punto è molto importante comprendere come questi interessi abbiano determinato la storia del Venezuela. Per più di 40 anni la storia del Venezuela dipendeva dal cosiddetto patto di punto fico, un patto politico tra i due principali partiti di quel momento, Azione Democratica e COPEI, Comitato di Organizzazione Politica Elettorale Indipendente. Attraverso il patto concordarono un programma politico comune. L'unico elemento che cambiava era che si alternavano l'uno all'altro, a seconda dell'esito elettorale. Questi due partiti di destra sequestrarono la democrazia venezuelana per oltre 40 anni, difendendo esclusivamente gli interessi dell'oligarchia e lasciando il popolo venezuelano senza alcuna rappresentanza. Certo, in questo modo fu garantito per più di 40 anni il petrolio ad un ottimo prezzo per gli Stati Uniti. Cresceva così il malcontento del popolo, che iniziò a manifestarsi sempre più forte. Nel febbraio e marzo del 1989 le manifestazioni giunsero all'apice, fino a quello che fu chiamato il Caracasso. Durante questo evento, tristemente storico per il Venezuela, il governo venezuelano ordinò di aprire il fuoco contro i manifestanti. Morirono più di 3.000 persone in una settimana. Tra i militari al comando, che si rifiutarono di sparare contro i manifestanti durante il Caracasso, ce n'era uno molto particolare, il comandante Hugo Chávez Frias. Dopo aver tentato di rovesciare il regime assassino dell'oligarchia, attraverso una ribellione militare che non andò a buon fine, il comandante Chávez si candidò alle elezioni. E fu così che nel 1998 venne eletto presidente della Repubblica del Venezuela. Il governo del comandante Chávez rappresentò un cambiamento storico per i venezuelani e le venezuelane. Innanzitutto per il rafforzamento della democrazia nel paese. Si iniziò con la rifondazione democratica di tutte le istituzioni dello Stato, attraverso un'assemblea costituente. Nei 15 anni di rivoluzione bolivariana si sono realizzati 19 eventi elettorali. Una cifra incredibile, di cui 18 vinti dal processo rivoluzionario. Questo processo di democrazia rappresentativa permanente è stato inoltre complementato dal rafforzamento della democrazia partecipativa in Venezuela. Anche i progressi, frutto delle politiche sociali, sono stati molto evidenti. La povertà è diminuita dal 54,2% del 1995 al 23,9% del 2012. La mortalità infantile è diminuita del 50%. Il sistema sanitario e di previdenza sociale rappresentano il 21% del bilancio dello Stato venezuelano. Le matricole universitarie sono passate da 800.000 a 2.600.000. In Venezuela ci sono 75 università pubbliche. L'analfabetismo è stato sradicato in tutto il paese. Ovviamente l'impero statunitense, vedendo che per la prima volta nella storia un governo venezuelano si occupava molto di più del suo popolo che degli interessi nordamericani, e che il nuovo processo di integrazione sovrano ed emancipatore dell'America Latina stava minacciando la sua egemonia politica, non rimase a guardare. Nel 2002 sostenne palesemente un colpo di Stato contro il governo democraticamente eletto di Hugo Chavez. Avendo fallito questo tentativo grazie alla mobilitazione popolare, organizzò un sabotaggio economico attraverso uno sciopero petrolifero con il sostegno dell'oligarchia. Tuttavia fallì anche questo nuovo tentativo di destabilizzazione. È chiaro quindi che ciò che sta accadendo in Venezuela non è altro che l'ennesimo tentativo di destabilizzazione. L'unica novità è che adesso viene usata una strategia diversa, il cosiddetto golpe morbido. Il primo passo è la guerra economica. Nonostante siano stati avviati numerosi cambiamenti nell'economia venezuelana, il paese dipende ancora molto dalle importazioni per soddisfare le sue principali necessità. E la stessa oligarchia, che storicamente ha creato questa situazione, sta cercando di approfittarsene ancora oggi. Da un lato alcuni industriali, legati all'oligarchia che vuole mettere fine al processo bolivariano, stanno tentando di diminuire la reperibilità di alcuni prodotti di prima necessità, per creare malcontento popolare. Dall'altro, alcuni settori che controllano le importazioni e che vogliono anch'essi mettere fine al processo, speculano con i dollari, anziché utilizzarli per l'importazione di prodotti di prima necessità per il paese. Questo dimostra, ancora una volta, il cinismo dell'oligarchia venezuelana, disposta a tutto pur di tornare al potere. Ora vediamo il secondo e forse più importante pilastro del golpe morbido, quello della manipolazione mediatica. L'opposizione golpista venezuelana ha due facce, una che si mostra pacifica e l'altra chiaramente violenta. E certi mezzi di comunicazione in Venezuela e all'estero sono diventati gli strumenti principali di questa strategia di golpe morbido, manipolando in modo davvero sfacciato i fatti che stanno accadendo nel paese. Vogliono far credere al mondo intero che il governo venezuelano stia reprimendo duramente dei semplici manifestanti pacifici. Ma questo copione lo conosciamo già e non cadremo tanto facilmente in questa trappola. Se osserviamo un po' la storia di questi ultimi anni in America Latina, ci rendiamo conto che gli Stati Uniti e le oligarchie non sono rimaste con le mani in mano davanti ai movimenti progressisti. Prima c'è stato il tentativo fallito di colpo di Stato in Venezuela nel 2002. Sfortunatamente nel 2010 il colpo di Stato in Honduras andò invece a buon fine. Poi è stata la volta dell'Ecuador, dove per fortuna il tentativo di colpo di Stato del 2010 fallì. Ma non è finita. Il governo paraguaiano di Lugo non ebbe tanta fortuna e nel 2012 fu rovesciato da un colpo di Stato parlamentare. Infine nel 2012 e più recentemente nel 2014 sono stati denunciati tentativi di colpe anche in Bolivia. Questa volta in Venezuela la storia sta cercando di ripetersi, ma non permetteremo che accada. Noi popoli latinoamericani abbiamo imparato molto dal nostro passato e questa volta non permetteremo che l'impero nordamericano o le oligarchie nazionali riescano a strapparci il processo di cambiamento che stiamo vivendo. Forza compagni venezuelani, non lasciamo che questo colpe morbido si realizzi.